da quello che risulta della lastra la sua mano destra non ha nulla sarà un po' di affaticamento lei scrive molto al computer o scrive a mano? cosa vuole che le dica? provi a non muoverla per un po' poi quando le sembrerà di essere guarito la muova al massimo male che vada muore il sole envidia alla luna la luna envidia al sol il mar envidia alla laguna envidia alla flor la flora envidia alla bella e il rebaio è il pastor e gli soffa l'orecchia il letto fa il ventilador non devo risposare un nano riposare la mano devo riposare la mano non lo so per quanto mamma non lo so per quanto non è possibile qui ci vuole il giulastro qui la flora envidia alla bella e il rebaio è il pastore il soffo a la oreja il letto fa il ventilador mamma mamma già sai fare un gioco che oggi hai imparato a fare a scuola? quale? questo il sol envidia alla luna la luna envidia al sol il sol il sol luna il sol il sol il sol luna 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 Il punto è che mi riusco e non posso sapere Quindi mi riusco e faccio acqua calenta Mi molesta tanto che non voglio cantare Voglio chiederti una cosa Chi è il tuo medico? Così, azione? Questa non la useremo da qua Ma Mario, mi senti fatto Ha sbagliato lui Bravissima, bravissima Massimo male che vada, muore Questo muore fa paura Che cosa? Che devo riposare la mano Che devi sposare uno stregone Grande Che cosa? Che cosa? Grifo Che cosa? Que cosa? Loro 特別 Loro